Amici del software libero open source benvenuti e bentornati in questa sessantatresima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di Fedora 32, la scorsa settimana ci eravamo lasciati con il rilascio della versione stabile di Fedora 32, arrivata con soltanto una settimana di ritardo, quindi complimenti al team di Fedora in questo caso, questa settimana ritorniamo a parlare di Fedora e lo facciamo con due guide realizzate da Luca inerenti, la prima è una guida post installazione su Fedora 32 Workstation, quindi l'edizione principale è quella con Gnome, all'interno della guida troverete una serie di consigli e trucchi su quali programmi installare nella fase successiva all'installazione per completare la vostra distro, quindi magari anche l'aggiunta di repositori aggiuntivi e quant'altro, tutte cose che servono realmente. La seconda guida è una guida che illustra come installare su hard disk esterno Fedora 32, su blog trovate tutte quante le informazioni, andate a lasciare qualche commento se avete qualche dubbio e magari se volete fare qualche aggiunta, qualche appunto alla guida su Fedora 32, andate sul blog e lasciate appunto il commento e provvederemo ad aggiungerla. Rinnovo lo stesso invito per le guide post installazione per Ubuntu che ho rilasciato qualche settimana fa, anche in quel caso se volete fare qualche appunto per migliorare la guida ogni commento è ben accetto. Per aggiungere i grandi e piccini questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile di Inkscape che raggiunge dopo tanti anni di sviluppo la versione 1.0. La novità principale di questa versione è il passaggio ai GTK3. Oltre a questo troviamo delle prestazioni notevolmente migliorate sia su Windows che su Linux, una migliore integrazione con il sistema su macOS perché adesso macOS praticamente offre un look nativo, nuovi effetti live path, il supporto l'HIDPI e anche alcuni ritocchi quelli all'interfaccia grafica che non guastano mai. Su Marcosbox trovate il link al changelog completo e trovate le istruzioni su come installarlo su Ubuntu e tutte quante le distribuzioni che fanno l'utilizzo di Snap come Manjaro direttamente dallo Snap Store. Ricordo che la versione presente sullo Snap Store di Inkscape è curata direttamente dagli sviluppatori di Inkscape, quindi lo impacchettano direttamente loro. Ci tengo anche a sottolineare una cosa. A differenza della vecchia versione, la versione 0.9 e qualcosa, questa nuova versione, la 1.0 di Inkscape, non ha più i problemi di integrazione con la grafica nella versione Snap, quindi se voi installate la versione Snap della 1.0 vi ritrovate finalmente i menu che non sono quelli di Windows 95, quindi vi trovate tutto integrato perfettamente con il sistema e grandissima cosa di questa release che finalmente offre prestazioni di avvio degne di nota, cioè nel senso finalmente Inkscape nella versione Snap parte subito. Non è come la vecchia versione che l'avviavate, andavate via a fare il caffè e stava ancora lì a caricare, quindi anche in questo caso complimenti al team di Inkscape per questi miglioramenti anche nel pacchetto Snap, anche se secondo me molta della colpa era il fatto che la versione vecchia utilizzasse ancora il GTK 2, vabbè, questi sono soltanto alcuni pensieri miei, vedremo poi di approfondire in futuro questa cosa. Altro riascio molto interessante di questa settimana è la versione 76 di Firefox. In questa nuova versione è stato ulteriormente rafforzato il sistema di protezione offerte da LockWiz, ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le principali novità. Firefox adesso visualizzerà degli avvisi di criticità nel gestore delle password LockWiz quando viene violato un sito web. Se uno degli account che abbiamo è coinvolto in una violazione di un sito web e abbiamo utilizzato la stessa password su altri siti web, bene LockWiz anche in questo caso ci verrà incontro suggerendoci di modificare la password e di aggiornarla. Funzionalità anche interessante che è stata aggiunta con questa versione è la possibilità di generare automaticamente password complesse quando noi andiamo a registrarci a un nuovo sito. Queste password possono essere automaticamente salvate all'interno del browser. Infine, se il nostro dispositivo viene condiviso con i nostri congiunti, come dirbbe qualcuno, oppure coinquilini, Firefox ci aiuterà a prevenire che eventuali ficcanaso possano sbirciare all'interno delle nostre password. Se non abbiamo impostato una password principale per Firefox, Windows e Mac OS richiederanno adesso l'immissione della password dell'account utente per poter visualizzare le password memorizzate in Firefox, quindi sia adegua Firefox a quello che già succede ad esempio con Google Chrome. Ovviamente se noi siamo su Windows o Mac OS e non abbiamo impostato una password di accesso, bene ci attacchiamo al trap, quindi ricordatevi sempre di impostare delle password per poter proteggere la privacy delle vostre password. Funzionalità poi interessante di questa nuova versione di Firefox è che è stata migliorata e potenziata la funzionalità picture in picture che adesso consente, mediante il doppio clic del mouse, di passare dalla modalità piccola a quella schermo intero facendoci appunto doppio clic da sopra e viceversa, quindi se noi abbiamo la finestrella piccolina ci facciamo doppio clic e viene ingrandita, doppio clic viene rimpicciolita nuovamente. La funzionalità picture in picture è una funzionalità di Firefox che io adoro e spero di vedere prima o poi anche su Google Chrome. Infine, ultima ma non ultima, una funzionalità interessante, adesso sapete bene che è il tempo di servizi di chiamate di gruppo come Zoom, bene adesso è possibile utilizzare le chiamate di gruppo di Zoom su Firefox senza la necessità di download aggiuntivi, questo perché adesso Firefox supporta le funzionalità audio worklets che consentono un'elaborazione audio più compressa, prima non era possibile utilizzare quindi c'era bisogno di download aggiuntivi, adesso è tutto nativo, quindi per ragione di chi fa largo uso di queste funzionalità. Restando a parlare di Firefox, ho pubblicato una piccola riflessione su Firefox sui sistemi operativi Linux e in particolar modo su Ubuntu. Sapete bene con Firefox che cosa succede? Quando viene rilasciata una nuova versione su Linux passano sempre quelle 24-48 ore affinché la nuova versione di Firefox arrivi nei ripositori della distra, salvo casi eccezionali quando ci sono delle vulnerabilità particolarmente critiche, quindi subito viene proposto. Da lì mi era partita tutta una riflessione, come faccio a provare fin da subito Firefox sulla mia distribuzione Linux senza dover aspettare che il manutentore della distra mi proponga ragionamento? Bene, ho riflettuto e ho pensato all'utilizzo degli Snap, perché all'interno dello Snap Store è già presente un pacchetto di Firefox che è curato direttamente da Mozilla, quindi software originale che viene aggiornato a tempo quasi zero, quindi alla fine se come arriva un aggiornamento di Firefox viene rilasciato all'interno dello Snap Store, quindi potrebbe essere una valida soluzione, una valida alternativa a installare Firefox, anziché installare con la repository, ce lo installiamo dallo Snap Store, quindi ci sleghiamo dalla logica degli update, delle varie distribuzioni e oltretutto abbiamo anche alcune funzionalità interessanti, per esempio con il fatto di avere uno Snap abbiamo una modalità sandboxata, quindi difficilmente potrà fare danni, i malevoli potranno fare danni all'interno del nostro sistema, se utilizziamo la versione Snap, poi abbiamo altre serie di funzionalità interessanti, ad esempio il fatto di avere diversi canali della stessa applicazione, possiamo avere la versione stabile, la release candidate, la beta, la versione SR e possiamo passare da un canale all'altro in maniera facile e intuitiva direttamente dallo Snap Store, quindi senza stare lì a reinstallare, ma cambiamo canale, switchiamo e facciamo tutto, cosa che con la versione stabile presente nel repository della listo non possiamo fare, perché se abbiamo la versione Quantum, rimaniamo sulla Quantum, non possiamo tornare alla SR facilmente, a meno che non io andrò a installare repository aggiuntivi e quant'altro, quindi tutto un discorso che ho fatto all'interno di questo editoriale, andatevi a approfondire, andatevi a dire che cosa ne pensate voi di questa opportunità o meno di utilizzare la versione SNAP di Firefox oppure quella da repository, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Passiamo adesso alle derivate non ufficiali di Ubuntu. La scorsa settimana vi avevo parlato del rilascio del remix non ufficiale di Ubuntu 20.04 con Cinnamon, una derivata che lascia un po' il tempo che trovo perché sapete bene come la penso, se volete una base Ubuntu e volete provare Cinnamon, tanto vale scaricarvi Linux Mint, a mio avviso non c'è necessità di questo nuovo remix, questa nuova derivata non ufficiale di Ubuntu. Viceversa, questa settimana vi parlerò di un'altra remix, di un'altra derivata non ufficiale di Ubuntu che però ha, a mio avviso, più senso di esistere. Sto parlando di Ubuntu DDR Remix. Come lascio presaggere il nome, come lascio intuire, si tratta di una versione di Ubuntu che ha Deepin Desktop Environment come ambiente desktop predefinito. Questa nuova derivata non ufficiale è arrivata nella versione stabile, quindi basata sulla 20.04 RTS, è possibile scaricare direttamente dal sito web degli sviluppatori, che sono derivate non ufficiali, quindi sono sviluppatori indipendenti. Ripeto, a mio avviso ha più senso di esistere rispetto alla versione con Cinnamon perché non c'è attualmente una versione alternativa di Deepin basata su Ubuntu, potrebbe interessare a molti di voi che amano questo ambiente grafico ma che non si fidano a instagare la versione quella cinese, perché è una distribuzione cinese. Ma non tanto per il fatto che è una versione cinese, a mio avviso, anche per il fatto di essere basato sul Debian 10, magari c'è il problema dell'aggiornamento di alcuni applicativi che magari non vengono aggiornati immediatamente, e quindi uno potrebbe voler provare qualcosa di diverso. Sul blog trovate il link per poter scaricare questa nuova versione, ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa, viene rilasciata attualmente con la versione stabile di Deepin Desktop Environment, quella meno cartunesca, anche se gli sviluppatori di questo nuovo remix hanno fatto sapere che garantiranno futuri aggiornamenti di Deepin Desktop Environment, quindi si spera, dunque, nel futuro, nell'immediato futuro, non appena verrà rilasciata la versione stabile di Deepin 20, che verrà aggiornato anche Deepin Desktop Environment, quindi con l'ultima versione, quella più cartunesca, passaremo il termine, che avete avuto modo di vedere su Deepin 20 Beta. Restiamo sempre in tema derivati di Ubuntu e parliamo di Elementary OS. Elementary OS è forse la più famosa derivata di Ubuntu dopo Linux Mint, che offre una serie di accortezze grafiche, un desktop environment completamente sviluppato in casa, coerenza generale dell'interfaccia ed è apprezzata da moltissimi di voi. Bene, Daniel Foret, leader del progetto, nonché principale sviluppatore della distro, ha tweetato quella che è un'interessante feature che piacerà a molti di voi e che vedremo su Elementary OS 6. Sto parlando della Dark Mode, che arriva finalmente su Elementary OS, quindi anche Elementary si va, diciamo così, a unire la carruzione di tutte quante le desktop environment che propongono un tema scuro. Se andate a vedere su Marcos Box lo screenshot, potete apprezzare anche il lavoro grafico che Daniel Foret sta facendo. È possibile anche vedere che il fatto che, lo sa, non hanno aggiornato soltanto, non hanno messo soltanto la modalità scura, ma stanno lavorando anche all'aggiornamento generale del tema. È davvero bello anche da vedere. Oltre a questo, è possibile vedere un'altra feature che è stata introdotta, che verrà introdotta o meglio, cioè la possibilità di modificare gli accenti. Sto parlando praticamente dei core, che ne so, dei pulsanti azione, dei checkbox e quant'altro. Quindi avremo maggiori possibilità di personalizzazione su Elementary OS dal punto di vista grafico e ognuno avrà il suo. Staremo a vedere nelle prossime settimane come si evolverà e non vedo gora di poter metterci su le mani per poter approvare. Passiamo adesso a una derivata ufficiale, da un flavor ufficiale di Ubuntu. Sto parlando di Ubuntu Studio. Il tema di Ubuntu Studio ha annunciato che a partire dalla release 20.10 di questa distribuzione orientata alla multimedialità, avremo KDE al posto di XFCE come Desktop Environment. Su Marcosbox vi ho chi percorso un po' tutta la storia di Ubuntu Studio. L'idea di passare a KDE non è un'idea nuova, non è un'idea dell'ultimo minuto. Timor adesso ha deciso di fare il grande passo anche perché consideriamo il fatto che KDE ha praticamente il medesimo consumo di risorse di XFCE, quindi non c'è nemmeno più la necessità di installare XFCE per motivi di leggerezza quando KDE utilizza le stesse risorse. Quindi adesso è puramente un verso grafico, quindi se ci piace la grafica di KDE possiamo tranquillamente utilizzarla senza rinunciare alle prestazioni. Su Marcosbox trovate maggiori dettagli e trovate anche una piccola storia che ripercorre le varie tappe che hanno portato alla scelta, alla decisione di scegliere KDE Plasma come desktop environment predefinito della prossima versione di Ubuntu Studio. La scorsa settimana ho pubblicato una lettera di un lettore. Che è successo? È successo che sono stato contattato da questo lettore di Marcosbox, un utente Linux di lunga data, ci tengo a sottolineare questo, che mi ha chiesto di poter raccontare la sua esperienza personale con il mondo Linux e di come questa sua passione abbia avuto delle ripercussioni sulla sua carriera professionale. Ho pubblicato per intero la sua lettera, andate a leggere la sua storia. Un utente che lavora nel settore da svariati anni, quindi non è un piverrino che è uscito all'improvviso e si è affacciato da una settimana nel mondo professionale. Andate poi a lasciare un commento su Marcosbox, perché ho visto che si è aperta una bella discussione, ci sono stati diversi commenti, sono stati commenti anche sui canali social, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e fate sapere anche voi che cosa ne pensate. Se siete degli hacker, Microsoft vi regala fino a 100.000 dollari se riuscite a violare la sicurezza del kernel Linux alla base di Azure Sphere OS. Come ben saprete, ormai due anni fa Microsoft ha realizzato una versione personalizzata del kernel Linux da utilizzare su Microsoft Azure Sphere, la sua tecnologia pensata per il mondo dell'IoT, ebbene adesso Microsoft ha deciso di lanciare una sfida rivolta a tutti quanti gli hacker esperti di sicurezza informatica, con premi fino a 100.000 dollari, a chi sarà in grado di violare la sicurezza del sistema operativo Linux personalizzato dall'azienda. Su Marcosbox trovate maggiori dettagli e il link al comunicato ufficiale dell'azienda. Magari se volete partecipare a questo hackathon, se avete le competenze, fateci un pezzellino, perché pecunia non ho let. Torniamo a parlare di Snap, e lo facciamo con una guida che ho pubblicato qualche giorno fa, che spiega come utilizzare le web app di Office 365 integrate all'interno del sistema operativo Linux, nella fattispecie su Ubuntu. Lo sviluppatore Aiden Barness ha realizzato un pacchetto chiamato un official web app office, che praticamente non è altro che un wrapper di Office 365, grazie al quale è possibile avere le web app della suite Microsoft Office facilmente richiamabili dal menu applicazioni della nostra distribuzione. Offre le web app di Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e OneNote. Il wrapper è basato su WT Web Engine, e non fa altro che aprire la versione web delle suddette applicazioni in un browser minimalistico. non è possibile aprire direttamente che ne sono un file che noi abbiamo sulla nostra distribuzione sulla web app, ma dobbiamo sempre fare il caricamento e tutto il passaggio che ben sapete, perché appunto è soltanto un wrapper, non è un'applicazione nativa, però può essere comoda per chi lavora molto con la versione web di Office 365. su Marcosbox trovate come poterlo installare, trovate anche il link alla pagina GitHub del progetto qualora vogliate condividere, e trovate anche una piccola nota, anche ho messo una piccola posta che è a piedi pagina, perché sempre questo sviluppatore ha postato qualche giorno fa su Twitter un'anteprima di un lavoro che sta portando avanti, grazie al quale sarà possibile in futuro utilizzare Office 365, la versione quella completa, direttamente sulla nostra distribuzione Linux, è un progetto non ufficiale e che si basa sull'utilizzo dei container, è una versione nativa che potremo utilizzare direttamente di Office, che consentirà anche l'apertura dei file direttamente dal nostro sistema. Andate a vedere poi sul profilo Twitter dove trovate una serie di video che ha pubblicato che illustrano questa funzionalità che è ancora work in progress, non appena ci saranno maggiori dettagli, maggiori sviluppi su questo suo approccio per poter avere Microsoft Office nativo su Linux, grazie ai container, troverete maggiori dettagli su Marcosbox. L'ultima notizia della settimana riguarda una guida che ho postato su Marcosbox, che spiega l'utilizzo base di YouTube DL, un piccolo tool da riga di comando open source e multiplattaforma, è disponibile per Windows, Mac OS o Linux, che ci consente di poter scaricare audio e video da YouTube direttamente dal terminale. Su Marcosbox trovate come installarlo su Ubuntu e come poter scaricare video e audio in formato mp3. All'interno del blog vi ho lasciato poi il link a tutte quante le funzionalità aggiuntive di questo tool perché consente di selezionare il formato di uscita sia per il video che per l'audio, consente di scaricare playlist e vi invito poi ad approfondire l'utilizzo di questo tool direttamente dalle pagine dei wiki di YouTube DL dove trovate tutte quante le informazioni per coprire tutte quante le casistiche di vostro interesse. Bene, e con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!